Una domanda che mi viene posta spesso è perché fare le raccolte differenziate e la domanda viene posta sempre dal punto di vista economico, ma costa di più. In realtà uno dei dati che sicuramente evidenzia l'andamento delle raccolte differenziate in Italia è che istituire le raccolte differenziate, farle in qualità porta a una complessiva riduzione dei costi, nel senso che non è che costa di meno raccogliere, ma si buttano via meno soldi, in quanto separando carta, plastica, vetro, organico, questi materiali vanno a recupero, rientrano in un ciclo produttivo e quindi non vengono portati all'interno di una discarica, quindi non vengono buttati via materialmente dei soldi. Quindi di fianco a quello che è l'impatto ambientale, la riduzione degli sprechi, il far raccolte differenziate è un atto concreto per andare a riposizionare e rendere disponibili i soldi che vengono investiti in servizi, quindi in lavoro. Ci fu uno studio fatto nel 1997 che metteva proprio a confronto questo, quanto lavoro, quanto ritorno economico portava le raccolti differenziate, allora fu preso molto alla leggera, in realtà adesso questo è uno degli elementi fondamentali, la raccolta differenziata consente di migliorare l'ambiente, consente di recuperare materiale, consente di creare e avere del lavoro che migliorerà le condizioni delle persone e dell'ambiente.